Buongiorno, la lezione di oggi verterà sul manierismo, che è un periodo estremamente creativo dell'arte italiana che dura circa una sessantina d'anni. Storicamente si colloca nell'epoca della riforma protestante che abbiamo parzialmente già visto parlando di Michelangelo. Il termine manierismo deriva da maniera, parola utilizzata spesso nelle vite di Vasari che l'autore utilizza con l'accezione di stile. Se proprio vogliamo trovare dei punti di riferimento cronologici possiamo individuare l'inizio di questo nuovo linguaggio con il tondodone di Michelangelo del 1504 e il termine con la chiusura del concilio di Trento, da cui poi nascerà la risposta alla riforma protestante, quindi la cosiddetta contro-riforma, e in ambito artistico il barocco. C'è da sottolineare che il termine manierismo per lungo tempo è stato associato ad un'accezione negativa. Anche nell'uso quotidiano della lingua quando si parla di un qualcosa di manierato si fa riferimento ad un oggetto, una situazione, un modo di fare estremamente elegante, esasperato, quindi eccessivo. E anche lo stesso Vasari in qualche modo è complice di questa accezione negativa perché il termine maniera viene usato dal nostro autore talvolta in senso positivo talvolta in senso negativo. E vediamo brevemente la figura di Giorgio Vasari. Vasari nacque ad Arezzo e lavorò come pittore tra Firenze e Roma ma poi cominciò ad interessarsi anche di scultura, architettura e alle arti minori. Ma la sua fama è dovuta soprattutto alla sua attività di storico dell'arte, tra l'altro il primo in senso moderno, per aver scritto le vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani da Cimabue in sino ai tempi nostri, chiamate semplicemente vite. In quest'opera Vasari cerca una sorta di filo conduttore che parte appunto da Cimabue ma soprattutto da Giotto, passa per Masaccio e arriva fino a Michelangelo, considerato il più grande artista di tutti i tempi, quindi colui che rappresenta il massimo modello per tutti coloro che vogliano intraprendere l'attività artistica. Diciamo subito però che l'impostazione data da Vasari alle sue vite non è più condivisibile oggi, perché già da questa breve descrizione possiamo intuire che l'intento di Vasari è quello di celebrare Michelangelo, quindi costruire una sorta di classifica, se vogliamo, tra artisti minori e artisti maggiori. Questa impostazione, dicevo, non è più condivisibile da quando nell'Ottocento la Scuola di Vienna ha impostato l'indagine storica considerando l'opera d'arte non come un monumento da ammirare ma come un documento da studiare. È improprio quindi fare una qualsiasi classifica tra gli artisti e considerare quindi la storia dell'arte in una sorta di ottica evoluzionistica. Un altro aspetto interessante espresso da Vasari consiste proprio nel come bisogna porsi nei confronti di questi modelli eccelsi. Da una parte infatti l'artista in formazione deve guardare la natura, perché è dalla natura che impara la regola, la proporzione, l'armonia. Dall'altra parte invece l'artista in formazione deve guardare i grandi maestri, quindi deve formarsi alla maniera di Michelangelo, quindi al suo stile, per superare la natura. Possiamo quindi affermare che l'arte sta proprio nel discostarsi dalle regole imposte dalla natura o dalla tradizione per superarle e in qualche modo riscriverle. In questa immagine vediamo alcuni grandi artisti manieristi che operarono in Italia. Nella zona veneta abbiamo Tintoretto, nella zona emiliana Correggio Parmigianino, in Toscana Pontormo Rosso Fiorentino, nello stato della chiesa, in particolar modo a Roma, Michelangelo e Raffaello. Analizziamo ora quali sono i caratteri fondamentali del manierismo. Abbiamo l'eleganza, il movimento, la perdita del centro, la sensualità, l'intellettualismo e la bizzarria. Per quanto riguarda l'eleganza e la sensualità analizziamo brevemente la famosa Madonna dal colo lungo di Parmigianino. In quest'opera vediamo una rappresentazione inusuale della Vergine. Quella rappresentata è una Madonna estremamente sensuale che quasi si autocompiace della propria bellezza. L'allungamento delle figure in questo senso allude proprio ad un ingentilirsi della natura stessa per esaltare proprio la sensualità. Ma altri elementi denotano proprio sensualità, come si vede nel giovane a sinistra che è rappresentato in una maniera estremamente provocante. Questi elementi, quindi il discostarsi dalla raffigurazione inusuale della Vergine, l'eleganza, l'erotismo che traspaiono da un'opera come questa, saranno evidentemente poi rifiutati nell'epoca della controriforma e quindi del barocco. Nella Sala dei Giganti di Giulio Romano invece vediamo i concetti di movimento e perdita del centro. come si vede l'artista riesce a suggerire la caduta dell'architettura ma anche del cielo stesso sull'osservatore e questo è un evidente richiamo al giudizio universale di Michelangelo. Ma si perde anche il centro visivo di tutta l'opera. L'osservatore non sa più dove guardare. Diceva lo storico dell'arte Hauser che nelle opere manieriste ogni punto si è colpito trasuda sangue a significare che ogni elemento ha la sua importanza proprio per evidenziare il passaggio da una gerarchia ad una anarchia degli elementi visivi. Questa perdita del centro certamente ha un riscontro nello scomolgimento sociale, politico e religioso del periodo. E veniamo alla bizzarria che sarà poi la base da cui si svilupperà il linguaggio barocco. In quest'opera di Arcimboldo vediamo dei vegetali in una scodella ma se rovesciamo il quadro troviamo un ortolano. Questo stile estremamente personale ci fa ben capire dove si sta rivolgendo l'arte non più solamente alle tematiche storiche, religiose e mitologiche ma anche a qualcosa di nuovo e inusuale. Per quanto riguarda l'intellettualismo invece osserviamo questo quadro di Correggio che fa parte della serie degli amori di Giove. Qui si rappresenta il ratto di Ganimede, il giovane di cui Giove si immaghi e che venne rapito proprio dal Dio trasformatosi in un'aquila. Questa scena estremamente scabrosa può essere letta però in senso allegorico. È vero che si parla di un amore di un Dio per un giovinetto ma il tutto diventa più accettabile se Giove diventa Dio e Ganimede l'anima del fedele. E per finire diamo uno sguardo ai modelli per il manierismo. Il primo è il già citato Tondodoni. Qui vediamo soprattutto l'estrema naturalezza con cui Michelangelo stravolge il linguaggio pittorico del Cinquecento. Abbiamo già parlato del cangentismo ma soprattutto notiamo anche la torsione estrema della Vergine che si chiama contrapposto che sarà uno degli elementi più citati in assoluto di tutto il manierismo. Ma anche Raffaello contribuisce al creare il nuovo linguaggio. Non è però il Raffaello dello sposalizio della Vergine ma il Raffaello dell'incendio di Borgo. Qui vediamo come in maniera geniale Raffaello inquadri la scena non dal punto di vista del soggetto ma da quello del popolo. Infatti il soggetto in questo caso è il Papa che si affaccia dall'alto per benedire le fiamme e quindi spegnerle in maniera miracolosa. Quindi qui notiamo esattamente la perdita del centro perché il soggetto non è più in primo piano ma sullo sfondo, una confusione estremamente pensata da parte di Raffaello, riferimenti di carattere intellettuale, infatti vediamo a sinistra un uomo che porta il padre anziano sulle spalle e qui si allude a Enea che fugge da Troia con il padre Anchise e poi troviamo anche compositivamente l'utilizzo di linee divergenti che sarà anch'esso uno degli elementi più utilizzati in tutto il manierismo.